Dal congresso dell'American Society of Ematology, l'ASH che si è tenuto quest'anno a San Diego, arrivano novità importanti per la cura dei pazienti con l'infoma diffusa grandi cellule B ricaduto refrattario a trattamenti precedenti. Al meeting infatti sono stati presentati risultati molto promettenti di uno studio chiamato EPCOR-NHL5 in cui si è utilizzato un anticorpo bispecifico che si chiama EPCOR-ITAMAR in combinazione con un altro farmaco. Noi ci facciamo spiegare meglio di che cosa si tratta da un esperto, il professor Enrico De Renzini dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Professore, ci dice subito che cosa si evince dai risultati dello studio EPCOR-NHL5 presentati appunto a quest'ultimo congresso dell'ASH a San Diego? Questo studio è uno studio che ha analizzato una corte di pazienti con l'infoma diffuso grandi cellule B che avevano già fallito precedenti trattamenti e i risultati sono particolarmente incoraggianti perché fondamentalmente si è visto che combinando l'anticorpo bispecifico EPCOR-ITAMAR con un altro farmaco, l'Alenalidomide, siamo in grado di ottenere delle ottime risposte anche appunto in un setting di pazienti, insomma a rischio particolarmente alto che sono quelli che hanno già fallito trattamenti precedenti e che soprattutto queste risposte sono durevoli nel tempo. Ecco, noi avevamo già risultati di altri studi condotti su EPCOR-ITAMAR in monoterapia. Lo studio EPCOR-NHL5 è il primo trial su un anticorpo bispecifico combinato con appunto come lei ci diceva l'Alenalidomide per pazienti con l'infoma diffusa grandi cellule B, ricaduto o refrattario. Come mai in questo caso EPCOR-ITAMAR è stato utilizzato in combinazione e come mai proprio con l'Alenalidomide? Nell'infoma diffusa grandi cellule B ci sono attualmente tutta una serie di studi che dopo aver dimostrato la grande efficacia degli anticorpi bispecifici come agenti singoli, quindi come monoterapia, stanno cercando di combinarli con altri farmaci, altri anticorpi oppure come in questo caso con agenti immunomodulanti che quindi potenziano ulteriormente l'azione del sistema immunitario contro la neoplasia. Questo ha un forte razionale per qual motivo? Perché gli anticorpi bispecifici reclutano e ridirigono i linfociti T del nostro sistema immunitario contro i linfociti B neoplastici e la cosomministrazione di un agente immunomodulante come l'Alenalidomide potenzia ulteriormente l'immunità T cellulare e quindi sinergizza in questo modo con l'anticorpo bispecifico, in questo caso con EPCOR-ITAMAR. Quindi il razionale è molto forte e direi che i risultati anche dello studio che vedremo più avanti, insomma, lo confermo. Ecco, dunque professore, ci spiega un pochino più in dettaglio che tipo di studio è lo studio EPCOR-NHL5, cioè come è stato condotto? Lo studio EPCOR-NHL5 è uno studio che è stato presentato appunto all'ultimo congresso della società americana di ematologia e è uno studio di fase 1-B-2, quindi è uno studio diciamo così ancora abbastanza precoce nel processo della sperimentazione clinica dei farmaci in cui gli end point primari sono in parte legati appunto a dimostrare la sicurezza e la fattibilità clinica di una nuova terapia di combinazione e in parte proprio legati alla dimostrazione dell'efficacia. Quindi fondamentalmente gli obiettivi sono profilo di tossicità, di sicurezza e dimostrazione di efficacia. È uno studio che prevedeva multiple cohorti di pazienti e la coorte su cui insomma ci stiamo focalizzando è quella relativa appunto ai linfomi diffusi grandi cellule B, ricaduti refrattari, trattati con almeno una linea di terapia precedente e trattati appunto con EPCOR-RITAMAB più LENALIDOVINE. Il trattamento si compone di 12 cicli di terapia e terapia che dura quindi complessivamente un anno, quindi è una terapia a durata fissa. Quali sono i risultati più importanti dello studio presentati al congresso americano? Questo studio ha prodotto alcuni risultati molto interessanti. Innanzitutto ha ruolato 35 pazienti, cioè l'analisi molto presentata al congresso Asher, un'analisi su 35 pazienti che avevano ricevuto in media circa due linee di terapia precedenti, quindi un gruppo di pazienti che si configura come a rischio particolarmente elevato. Una frazione significativa dei quali poi era primariamente refrattaria, quindi sono pazienti che proprio non avevano avuto alcuna risposta al trattamento di prima linea e molti pazienti avevano anche già ricevuto una precedente terapia con CAR-T, quindi anche questo configura un rischio particolarmente elevato. Dal punto di vista proprio dei risultati, questo studio dimostra due cose fondamentalmente. La prima è che vi è un'efficacia molto molto rilevante, quindi più del 50% dei pazienti, il 53% dei pazienti ottiene una remissione metabolica completa e ben il 72% dei pazienti ottiene una qualche forma di risposta, quindi vi è anche circa un 20% di risposte parziali che vengono identificate come riduzione volumetrica dei linfonodi di almeno il 50% del volume. Quindi veramente è un ottimo tasso di risposta. Risposte che sono durevoli nel tempo, quindi con il tempo di osservazione disponibile che è ancora abbastanza breve, la mediana di durata della risposta non è ancora stata raggiunta. Questo vuol dire che la maggior parte dei pazienti che hanno ottenuto una remissione completa, al momento dell'osservazione sono ancora in remissione completa. Professore, in questo studio la combinazione di questi due farmaci è risultata ben tollerata? Sì, questo appunto è uno degli obiettivi fondamentali di uno studio di fase 1b, 2, quello anche di dimostrare la tollerabilità oltre all'efficacia, di cui abbiamo appena parlato. La combinazione è stata ben tollerata, diciamo soprattutto per quel che riguarda alcuni effetti avversi che sono tipici degli anticorpi bispecifici, come la sindrome di rilascio di citochine, che è stata nella maggior parte dei casi di lieve entità assolutamente gestibile e si contano veramente pochissimi casi di sindrome di rilascio di citochine di grado 3, 4, quindi gravità importante e quindi nella grande maggioranza dei casi si è trattato di un tipo di tossicità assolutamente gestibile e appunto di grado 1, 2. E per il resto quindi gli altri effetti avversi sono abbastanza attesi e complessivamente il profilo di sicurezza è veramente molto buono, tant'è vero che la stessa combinazione è anche in corso di sperimentazione in altri sottotipi di linfoma, per esempio come linfoma follicolare, con buoni risultati sia in termini di efficacia che di tossicità appunto. Professore, dunque la luce di tutti questi risultati che lei ci ha raccontato e che sono stati ottenuti finora nello studio, che messaggio si può ricavare per voi medici e per i pazienti e soprattutto quali implicazioni potrebbero avere questi dati? I risultati di questo studio sono particolarmente promettenti perché confermano la fattibilità e la grande efficacia appunto di una terapia combinata con l'anticorpo bispecifico epcoritamab e l'enalidomide nel setting del paziente con linfoma diffuso grandicellule ricaduto refrattario. Gli ottimi tassi di remissione completa, attorno al 50%, anzi che superano il 50% che sono stati ottenuti, potrebbero rappresentare per il futuro anche un razionale per offrire questa terapia di combinazione anche in linee precoce di trattamento, per esempio in seconda linea per quei pazienti che non hanno l'indicazione alla terapia di salvataggio con cellule CAR T.